Good morning Genova da Maria Giulia Pastorino, benvenuti a Cilevo News. In pochi minuti ogni settimana vi presento alcune ricerche volontari e notizie dal volontariato. Come sempre, gli approfondimenti li trovate sul nostro sito celivo.it. Iniziamo. Speciale estate volontariato, la bacheca, come già vi avevo accennato anche altre volte, è disponibile dal nostro sito. Nella bacheca trovate alcune ricerche volontari dedicate proprio al periodo estivo. Questo perché alcune associazioni si ritrovano ad avere delle carenze di volontari date magari le ferie estive oppure hanno dei servizi invece proprio estivi ad hoc dedicati perché hanno bisogno di sostegno. In particolare vi segnalo questa settimana la ricerca volontari di ANCSA, Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo. Loro si occupano di varie iniziative con ragazzi autistici e in particolare d'estate ricercano volontari per il trekking, cioè le camminate, le passeggiate che si svolgono nel fine settimana, i soggiorni che sono attività appunto sempre nel weekend ma impegnano l'intero weekend o attività giornaliere infrasettimanali come il mare, la piscina o le gite oppure appunto all'interno di un progetto invece dedicato alla pet therapy. Se siete interessati anche solo per capire un po' di più come funzionano i progetti potete contattare l'associazione. Sempre come ricerca di estate volontariato vi segnalo la Federazione Regionale Solidarietà e Lavoro ricerca volontari per l'accoglienza delle persone straniere. Infatti l'associazione gestisce un centro servizi integrati per i migrati che si occupa di sostenere per i permessi di soggiorno, le pratiche legate al lavoro, informazione rentamente eccetera. Ricerca volontari in particolare per i mesi di luglio e agosto, maggiorenni che abbiano un minimo di capacità informatiche per svolgere la prima attività di accoglienza e di orientamento delle persone che si riferiscono all'associazione. Ci vediamo il 30 di giugno con il Celivo Live, parliamo di Fidas Genova, parliamo di donazione del sangue. Seguite la diretta per avere maggiore informazione. Andiamo alle news. Settimana del rifugiato, iniziativa organizzata dal Celsto di Genova dal 16 al 21 di giugno in occasione della giornata mondiale del rifugiato che è il 20 di giugno. L'iniziativa si inserisce all'interno di una campagna più ampia e ha diverse attività all'interno del proprio programma. Quindi potete andare a vedere il programma completo. Parliamo invece di Alzheimer con l'AFMA, l'Associazione Famiglie Malati di Alzheimer, che insieme al CDC di Ponente e al Comune di Genova organizza un corso per i caregiver, cioè le persone che si occupano di sostenere e affiancare le persone malate di Alzheimer. Il programma è fitto di incontri e potete richiedere maggiori informazioni o verificare dal nostro sito quali sono le date. Suc Festival, ventiquetresima edizione, Genova, Porto Antico, da venerdì 17 giugno a domenica 26 giugno. Sul sito, sulla pagina Facebook trovate il programma completo con tutte le iniziative che si svolgono principalmente al Porto Antico nella Piazza delle Feste, ma anche in altre parti della città, quindi controllate quali sono le varie iniziative e partecipate. Vi ricordo anche, come vi ho segnalato settimana scorsa, la festa del volontariato organizzata dall'Associazione Mosaico e dal gruppo Rangers di Sestri, dal 17 al 19 giugno in Piazza Tazzoli a Genova Sestri Ponente, tre giornate con musica, balli e cibo. Anche qui il programma completo è a vostra disposizione passando dal sito dell'ente o sul sito del Celivo. Da Celivo News anche questa settimana è tutto, ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti.